Ciao Andrea Ruspa Questa sera un grande ritorno, DJ Axe è qua con noi, buonasera DJ Axe infatti ormai lo conosciamo Allora, dove abbiamo posti vuoti? Quello è vuoto, è vuoto quello? Quello di te ci sono due persone che vorrebbero unirsi a voi, no? Ce li hai i biglietti? I biglietti non sono problemi, l'importante è che abbiamo i posti Come facciamo? Qualcuno non è venuto, in qualche posto... Senti a modo da lui ... Allora... ... ... ... ... ... ... Grazie.